eccoci qui orgogliosamente in curva sud Milano anche se non ci sono gli striscioni perché non è stato consentito l'accesso agli striscioni ma per rifare il Milan siamo qui e lotteremo con la squadra una partita complicata ma ci faremo sentire lo stesso forza ragazzi Milano udinese dai ragazzi forza Milano ecco la nostra curva ma qui dovevano l'interno Marini con l'altra tribuna Stradigio ma qui dovevano la squadra curva in silenzio in questo inizio partita mentre in Milano saper battere il calcio di inizio ciao 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 Quello che avete ascoltato sarà l'unico foro della curva oggi. Ok amici ho capito perché hanno mandato Kifi a arbitrare il Milan, ho espulso Rendez, ho capito tutto, bravissimi, siete sempre i migliori, bravissimi. Partita palesemente rovinata dall'arbitro Kifi e sospettavo, avevo paura che fosse così, tutto confermato. Stiamo assistendo a un furto San Siro, stiamo assistendo a un furto, scemo, scemo. Unisce qui il primo tempo, 1-0 per noi, mi è chiaro, molto chiaro il motivo per cui Kifi è tornato ad arbitrare il Milan. Un arbitraggio provocatorio che ha consentito qualunque fallo e qualunque zona del campo e qualunque situazione arubinese. Senza che mai fosse utilizzato il cartellino, sarà dura ma dobbiamo provarci, forza ragazzi, non vogliamo. Inizia il secondo tempo di una partita già palesemente falsata. Senza che il primo tempo di una partita già palesemente falsata, è una partita già palesemente falsata. Non è giusto, non è giusto, non è giusto. Non è giusto, non è giusto. Non è giusto, non è giusto, non è giusto. Non è giusto, non è giusto. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti